Il sabato sera in centro a Cesenatico, in Piazzetta delle Conserve, in via Baldini, in via Fiorentini, troverai creatività e tanto ingegno. Forza, dai, su, fai un giro, anche tu! Il mercatino della creatività ti aspetta tutti sabato sera dalle 18 alle 24! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!